Mi trovo presso il parco archeologico di Taranto dove si terrà il concertone del primo maggio. Siamo appunto nelle vicinanze di via Blandamura. Ora benvenga per carità il concerto, benvenga la musica, benvenga a festeggiare il primo maggio e riflettere su temi importanti. Però io voglio anche considerare una situazione molto particolare. Qui sono stati allocati, sono stati sistemati, piantumati degli alberi. Sono ancora arboscelli molto teneri e vedete tutta l'area, vedete gli alberelli qui davanti, queste prime file, ma anche molto più a distanza dal punto in cui sto registrando. Beh, considerando che verranno migliaia e migliaia e migliaia di persone da Taranto ma anche da altre parti d'Italia per vivere il concerto, beh, immagino la triste fine che faranno questi alberi. Perché non stiamo parlando di alberi possenti in grado di reggere la calca, le spinte. Qui le persone sono assiepate una all'altra e gli alberi essendo appunto molto fragili, molto teneri, faranno una bruttissima fine. Pensate un po', guardate qui, non ci vorrà nulla che nella calca i poveri alberi verranno davvero piegati, spezzati e quant'altro. Ma, ripeto, non per cattiva volontà di chi assiste al concerto, ma perché ovviamente la calca, la ressa che si viene a creare comporta questa situazione. Guardate di fronte a me, ecco, vedete lì, ci sono almeno 7, 8, 10 file di alberi e tutta la zona. Ora, considerando che il palco verrà messo quasi sicuramente alle mie spalle, come è stata nell'ultima edizione, voglio capire che cosa succederà. Perché immaginate il palco qui, tutta la gente che si assiepa, chiaramente gli alberi faranno brutta fine. E' matematico, è logico il discorso, anche perché c'è questa fila, questo tratto in cui ci sono gli alberi. Il tratto più distante in cui ce ne sono altri, non penso che tutte queste migliaia di persone potranno essere contenute in questa fascia, diciamo in questo tratto senza alberi, è impossibile. Gli alberi verranno calpestati e diventeranno, come dire, carne da macello. E questo va detto all'amministrazione comunale, va detto agli organi di competenza, va detto al commissario prefettizio che evidentemente hanno così non considerato, sarà certamente loro sfuggita la problematica. bisogna intervenire perché, ripeto, io non ho nulla contro le manifestazioni di spettacolo, gli eventi che promuovono il territorio. Benvengano, servono a Taranto, però non è che per fare il concerto del primo maggio dobbiamo andare a distruggere gli alberi. Questo deve essere un messaggio molto ma molto chiaro. Se sono stati messi degli alberi, qui evidentemente il concerto diventa di impossibile, di difficilissima se non impossibile realizzazione, se poi l'amministrazione comunale, il commissario prefettizio ritengono che gli alberi possano essere distrutti, questo è un altro paio di mani che ovviamente si assumono loro le responsabilità. Sto lanciando, ripeto, questo messaggio. Non voglio, come dire, demonizzare il concerto, anzi benvenga il concerto del primo maggio, magari ne venissero anche altri con questa finalità. Però, signori cari, io immagino che tutto il palco lì e le migliaia e migliaia di persone non potranno essere contenute in una piccola fascia senza alberi. Verrà invasa tutta l'area e gli alberi purtroppo si ritroveranno tristemente distrutti. Commissario, pensi a questo fatto, ma la interpellerò personalmente.